Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Uscita la Banded, uscita qualche carta di Skystriker da limitazioni eccetera Soprattutto Engage, un a caso e questo mi ha fatto pensare Battle of Legends, esce l'alterna di Vart Abbiamo fatto la Prediction che magari qualche carta del Premium Pack sarebbe stata introdotta, importata nel set E quindi ragazzi, prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale Per rimanere sempre aggiornati con il mondo di Yugi, mi raccomando e portatissimo, grazie mille E quindi Skystriker in Battle of Legends credo possano essere una possibilità più che concreta Andiamo a rivedere un attimino le carte che dovrebbero essere introdotte Sto ricliccando, lui e poi credo, credo basta, credo basta Allora praticamente sono le carte Skystriker quelle più scarse in realtà a dispetto di quelle che comunque conosciamo Abbiamo visto la Love Magus Siela che probabilmente magari quando andiamo a fare il recappone Per quanto riguarda Battle of Legends andremo un po' a fare un discorso un po' più ampio Andando un attimino a rivedere Skystriker perché lo sento molto E a vedere comunque le carte che hanno messo in card cluster come carte che verranno introdotte in Battle of Legends Che sono in Animation Chronicle ma dato che escono praticamente contemporaneamente non si sa Comunque abbiamo a Love Magus Siela che è sempre considerata Skystriker Possiamo scartare una magia per speciale questa carta dalla mano Possiamo bandire una magia dal cimitero Diamo il controllo di questa carta all'avversario E se lo facciamo evochiamo specialmente uno Skystriker dal cimitero Se questa carta viene distrutta e battaglia l'effetto di una carta ma dal cimitero Possiamo targettare una delle nostre magie Skystriker bandite e aggiungerla alla mano Poi abbiamo Hakkas Sempre considerata Skystriker Scartiamo una magia sempre di coso Specialiamo dalla mano Se uno più mosto e link che controlliamo vengono distrutte in battaglia dall'effetto di una carta Possiamo bandire una magia dal cimitero Invece di farli distruggere se lei viene distrutta in battaglia dall'effetto di una carta ma dal cimitero Possiamo targettare una carta bandita magia sempre Skystriker E aggiungerla alla mano Abbiamo il saggio Himmel Possiamo scartare una magia per evocarlo Quando l'avversario tiene una carta o un effetto Un effetto che targetta uno più mosto e link Che controlliamo Possiamo bandire due magie dal cimitero per negare l'effetto Se viene distrutto in battaglia l'effetto di una carta ma dal cimitero Targettiamo una magia bandita Skystriker che la aggiungiamo Diciamo che questi fanno l'effetto inverso Perché ti fanno bandire tutte le magie che vorresti avere al cimitero Poi abbiamo Asalea Che vuole Oddio era lei Oppure Ce ne erano due Una esce recentemente Che dovrebbe essere Oh Camelia Esce recentemente E poi abbiamo Skystriker Ace Asalea che vuole due mostri Luce e oppure oscurità Deve essere prima evocata link Possiamo evocarla una volta per tunno Se viene evocata specialmente Possiamo targettare una carta sul terreno La spacchiamo Poi se abbiamo tre o meno Magie dal cimitero Bandiamo questa carta al cimitero Quindi diciamo che Una volta per tunno All'inizio del damage Se questa carta combatte un mostro dall'avversario Possiamo bandire una spell dal cimitero Per spacchettare Per spaccare quel mostro Se volete potete anche spacchettarlo al limite Se è infoderinato Lo prendete e lo spacchettate Però sappiate che ve lancia la sedia Comunque Questi sono i supporti Che dovrebbero Potrebbero uscire Da Battle of Legends Secondo me potrebbero Perché comunque Esce anche l'alternative di engage E quindi Vediamo Con la band Che ce li hanno fatti un po' uscire Konami ha detto Dai mi li metto qui Così poi escono anche questi Che non credo verranno messi Però vediamo Insomma Però Engage Se engage Skystriker potrebbe tornare Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente Noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti